Sielo dato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Oggi è giovedì 18 febbraio e il giovedì dopo le ceneri. Ringrazio il Signore, ringrazio tutti voi per i numeri veramente notevoli di ascolto. Abbiamo ancora qualche problema. C'è probabilmente, come io ho saputo, un problema di collegamento tra il profilo Radio Domina e il sistema Android. Molti fanno fatica, soprattutto se lo smartphone è della Samsung, a entrare su Radio Domina. Bisogna pazientare e riprovare tante volte. Però i numeri premiano. Ieri in diretta per la messa c'erano 1600 persone. non so se Vatican News viene a sapere quello, siamo nei guai. Visto il regime, 1600 persone in diretta e nello spazio di neanche un'ora eravamo a quasi 7000 visualizzazioni. Sono numeri che ci consolano, ci confortano. Certo i numeri non sono alla fine in effetti veramente importanti. Però se ci sono, voglio dirvi che se anche non ci fossero, io andrei comunque avanti. Anzi, prevedo che prima o poi si inventeranno qualcosa di molto concreto, perché i numeri li spaventano, spaventano i nemici modernisti, mettono loro tanta paura. Quindi grazie. Ieri è stato un mercoledì delle ceneri intenso con la Santa Messa e poi anche con il ciclo di catechesi che abbiamo iniziato ieri sera con 1300 persone collegate con il mio libro Liamo sino alla fine. Ecco, la passione di Cristo, di Gesù, una lettura narrativa e teologica. Potete chiederlo il libro su Radio Domina, facilmente vi potrà essere consegnato. Allora oggi che è 18 febbraio la chiesa ricorda anzitutto il beato Giovanni da Fiesole, molto più noto col nome di Beato Angelico, questo frate domenicano del XV secolo che si fece appunto domenicano a Firenze e conobbe Sant'Antonino, il vescovo santo di Firenze e poi dopo si dedicò a questo ciclo di pitture al convento di San Marco. Ma non solo, la tradizione vuole che dipingesse vedendo gli angeli, questo il beato angelico, è sevolto nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, nella chiesa dove ci sono anche i resti mortali di Santa Caterina da Siena. Però oggi, 18 febbraio, vorrei particolarmente ricordare qui la festa liturgica di un santo missionario martire del XIX secolo. Sto parlando di Jean-Pierre Neel, San Giovanni Pietro Neel, canonizzato insieme a 120 martiri cinesi, nel senso di missionari in Cina, nel 2000 da parte di Giovanni Paolo II. E prima di parlare di San Giovanni Pietro Neel, questo missionario francese morto martire, decapitato dai mandarini in Cina in odio alla religione cristiana, lui con un paio di suoi collaboratori, come ora vedremo, vorrei aprire una parentesi proprio sul tema della Cina. La Cina oggi è una delle regioni del mondo più densamente popolate. La Cina fa più di un miliardo di abitanti. È sempre sembrata impermeabile al messaggio cristiano. Nel corso dei secoli sono state organizzate delle vere e proprie campagne missionarie. Oggi Bergoglio le definirebbe proselitismo, pensate un po'. Campagne come è cambiato il paradigma grazie a lui. Vere e proprie campagne missionarie, ma proprio per portare il messaggio di Gesù Cristo a questo popolo, il popolo cinese, che è sempre sembrato un po' così, ripeto, impermeabile al messaggio cristiano. E così nel corso dei secoli sono partiti i missionari. La pagina più significativa l'hanno scritta dei gesuiti. I gesuiti però sono divisi tra di loro tra il XVI e il XVII secolo. Perché? Perché, miei cari figlioli, attenti bene, questo è importante da sapere, mentre nel 1500 va San Francesco Saverio che dice bisogna annunziare il Vangelo e basta, nel 1600 vi si reca Matteo Ricci, che non a caso non è canonizzato e ora capite perché. Perché Matteo Ricci si incultura nella tradizione culturale appunto della Cina e con lui si sviluppa una nuova tendenza della missione dei gesuiti, quella di rispettare i culti locali, che era una cosa, ed è a tutt'oggi, per quel che mi riguarda, non so voi come la pensiate, inconcepibile. Cioè non si può pensare che un battezzato poi possa continuare a coltivare il culto degli antenati. Non stiamo parlando delle grandi religioni, a scanso di equivoci, il buddismo, l'induismo non c'è in Cina, il buddismo sì, il confucianesimo, caso mai. Stiamo parlando delle religioni animiste, delle religioni ancestrali. Allora, mentre San Francesco Saverio e la sua equip proponeva da gesuita un annuncio del Vangelo che rompesse per sempre con i culti antichi, Matteo Ricci, che si veste da mandarino, che va lì, che impara la lingua, che sta a corte, alla corte imperiale, propone invece il battesimo nel rispetto però anche delle tradizioni religiose locali. Nasce uno scontro incredibile che è poco noto, ma chi ha studiato storia della Chiesa sa quanto questa roba qui sia vera e anche delicata e direi molto attuale. Cioè tra il XVII e il XVIII secolo si sviluppa una contrapposizione teologica tra i gesuiti che alla fine fanno propria la posizione di Matteo Ricci, cioè rispetto delle culture locali, questo è anche giusto, perciò anche convivenza da parte dei nuovi battezzati con i culti antichi, e dall'altro invece i domenicani e i francescani, che nel frattempo avevano avviato anche loro delle missioni in alcune regioni della Cina, che dicevano no, ma questo non è possibile, bisogna annunziare il Vangelo e chiedere ai battezzati cinesi di non praticare i culti ancestrali. Come capite questa è una questione di fondo generale, ancora oggi molto importante, che poi si riproporrà quando tra la fine del XVIII secolo e soprattutto il XIX secolo, con l'epoca coloniale, si sviluppa l'evangelizzazione dell'Africa e anche lì ci sono i culti animisti, il culto degli antenati, l'invocazione degli spiriti. Ecco, allora la questione è stata risolta dai papi dell'epoca, il papa di quel tempo stabilisce che abbiano ragione i francescani e i domenicani contro i gesuiti, cioè il papa dice bisogna annunciare il Vangelo, bisogna annunciare ai cinesi Gesù Cristo e chiedere loro di rinunciare per sempre ai culti idolatrici, all'invocazione degli spiriti e ai culti degli antenati. Non so se voi cogliete l'importanza di questa querelle che ha caratterizzato tutto il XVII secolo, è stato Matteo Ricci, c'è un grande loggio in Italia anche da parte dei circoli laici o laicisti di Matteo Ricci, appunto perché Matteo Ricci sembra quasi un antesignano del modello democratico, non so come dire, illuminista, il rispetto delle culture, quelle cose lì che oggi vediamo molto bene andare al trionfo. Invece la Chiesa, sia chiaro, con i papi dell'epoca, non è stato un solo papa che si è pronunciato su questa questione qui, ha stabilito attraverso il romano pontefice che bisogna annunciare il Vangelo in tutta la sua interezza. Certamente è importante il modello dell'inculturazione che anche il Concilio Vaticano II ha stabilito, ma è importante chiedere ai cristiani, agli uomini, ai cinesi che si convertono, che rinuncino appunto ai culti idolatrici. E quindi il modello di Matteo Ricci è un modello ufficialmente, diciamo, nel tempo condannato dalla Chiesa. Il missionario va per annunziare Gesù Cristo e domanda al neofita, al catecumeno, di rinunciare per sempre agli idoli del passato. Ecco, questo per quanto riguarda la questione che oggi ancora è molto attuale. La Cina è sotto i nostri occhi, figli cari. Diventa sempre più un colosso economico mondiale. Se durante gli anni della guerra fredda Mosca era lei l'antagonista di Washington, possiamo senz'altro dire che oggi il vero antagonista di Washington non è più Mosca, o lo è ancora, ma non da sola, perché c'è Pechino, il governo comunista che però sposa il sistema capitalista, quelle cose molto strane della storia umana. Pechino è comunista, però usa il modello capitalista. E circa un miliardo e mezzo, quasi due miliardi, non so esattamente quanti le statistiche, non sono a dire il vero sempre concordi, comunque ci sono un miliardo e mezzo, quasi due miliardi cinesi che poi vanno in giro per il mondo. L'Italia è piena di comunità cinesi che non si integrano, non danno fastidio e non disturbano, è come se non ci fossero, ma è anche importante dire che non entrano nel tessuto collettivo nazionale. Sono comunità a sé, almeno dalle mie parti è così, non so se anche al nord, al centro Italia, so che in Toscana e a Milano ci sono diverse forti comunità di cinesi. Quindi la questione sinologica, si chiama così, la sinologia, cioè tutto quello che riguarda la Cina, è una questione molto attuale. Per un'altra questione ancora, che è quella attuale, cioè in Cina noi abbiamo circa, si fa una stima, non saprei esattamente, c'è chi dice 30 milioni, c'è chi dice 50 milioni di cristiani. Ora però il governo cinese chiede ai cristiani batteggiati, che sono conosciuti soprattutto nella Cina del Sud, che appartengano alla cosiddetta chiesa patriottica, cioè è il governo che stabilisce i vescovi. Voi sapete che la chiesa questo non l'ha mai accettato, i vescovi se li sceglie la chiesa, mica lo Stato, non è lo Stato, qualunque esso sia, di Pechino, di Roma, di Washington, che stabilisce chi debba governare nella chiesa. Il pastore è scelto dalla chiesa stessa. Invece in Cina i pastori vengono scelti dal governo centrale comunista e c'è una cosiddetta chiesa patriottica che beneficia di tutte le garanzie di protezione, di tutela e di rispetto da parte del governo cinese. Ma c'è anche, e questo non bisogna che lo dimentichiamo noi del piccolo resto in unione con Papa Benedetto XVI e vi dirò ora perché, c'è anche una chiesa clandestina, si chiama così. Non sappiamo purtroppo quanti siano, io nel mio libro, in uno dei miei libri parlo della chiesa clandestina, ce l'ho a cuore, ogni giorno prego per i miei fratelli nella fede, io quasi, non so voi, lo sento molto forte, i miei fratelli nella fede cinesi, preti, sacerdoti vescovi, suore, laici, che non volendo accettare di rinunciare all'unione con Roma, al Santo Padre, vengono perseguitati, ci sono rastrellamenti, i loro edifici vengono distrutti, devono celebrare di nascosto, ma i vescovi appunto resistono a questa ondata e spesso vanno in carcere. Quindi c'è una chiesa spaccata in Cina, c'è una chiesa patriottica che va per la maggiore e c'è una chiesa clandestina. Con Benedetto XVI il criterio generale era quello di non urtare diplomaticamente la chiesa patriottica, ma di garantire a tutti i costi la chiesa clandestina. Con la gestione Bergoglio Parolin, che è il segretario di Stato, è cambiato tutto perché si è arrivati a raggiungere accordi Vaticano-Pechino, per cui viene riconosciuto il diritto del governo cinese, Fatevobis, di scegliere i vescovi e di controllare territorialmente la chiesa. Quindi c'è una chiesa clandestina che si vede abbandonata dalla Santa Sede stessa e che però resiste. Qualche settimana fa è morto uno di questi eroici vescovi che sono stati anni in carcere, uno di questi che è morto di recente, naturalmente non mi ricordo in questo momento il nome, è stato per anni in carcere e una delle figure più eroiche del nostro tempo è il cardinale Zen. Questo per dirvi, scusate se ci ho perso un po' di tempo, la situazione di una fede cristiana in una nazione che diventa sempre più decisiva, la Cina. Quale sarà il futuro? Non possiamo prevederlo. Per quel che mi riguarda ritengo che ogni gigante nel mondo, ogni potere inframondano ai piedi d'argilla, non di bronzo. E quindi in qualche modo, prima o poi, questo governo cinese farà in conti con la storia. E allora la chiesa clandestina avrà tutta la sua voce in capitolo, potrà usare il proprio martirio, perché è una chiesa martire quella della chiesa clandestina per annunciare la verità. E noi preghiamo per la chiesa in Cina. E oggi celebriamo la festa, vi dicevo, di San Giovanni Pietronelle, francese, che fa parte della folta schiera di martiri che le missioni estere di Parigi hanno donato alla chiesa. Chi di voi è stato a Rue du Bac a Parigi? Non so quanti di voi. Non so se avete mai fatto attenzione che proprio sulla Rue du Bac, un po' più avanti rispetto alla Cappella delle Apparizioni della Medaglia Miracolosa. C'è la Cappella, chi va a Parigi la vada a visitare, merita, merita moltissimo, la Cappella delle cosiddette missioni estere. E c'è tutta la storia di questi eroici missionari che nell'Ottocento, Santa Teresina avrebbe voluto farlo, non so se lo sapete, voleva partire missionario. Infatti Pio XI la proclamò patrona delle missioni, nonostante non si fosse mai mossa dal monastero, perché voleva andare in Cina come facevano molti missionari francesi in quell'epoca lì. Ci sono queste missioni estere e lì si trovano proprio le foto. Io ricordo molto bene questa visita alla Cappella delle missioni estere dove si vedono questi martiri, sacerdoti, frati, suore, soprattutto sacerdoti missionari delle missioni estere che vanno in Cina ad annunciare il Vangelo. Ma vediamo chi è questo santo sconosciuto. Ci sono tanti santi, lo abbiamo detto tante volte. C'è Padre Pio e Sant'Antonio, Santa Rita, che sono i grandi santi, ma molta gente si ferma a loro. Io invece ho sempre gustato la devozione ai santi sconosciuti, come San Giovanni Pietro Nel. Era nato il 18 ottobre 1832 a Saint-Catherine-sur-Rivière, nella diocesi di Lyon. Manifestò ben presto ai genitori il desiderio di farsi sacerdote, sin dopo la prima comunione, quindi una vocazione da piccolo. Felice di questo suo desiderio, sua mamma lo mise nelle condizioni di poter apprendere le prime nozioni di latino presso il vicario d'Aubepin, per poi proseguire gli studi nei seminari di Montbrison e Argentier. In entrambi i luoghi, Jean-Pierre si rivelò, come testimoniarono unanimemente i compagni, uno studente calmo e mite che faceva appena avvertire la sua presenza a comunità. Spesso da queste figure così vengono fuori testimoni arditi della fede. Lui, come ora vedremo, è un martire, morirà decapitato da parte dei mandarini, il potere centrale di Cina. Si prepara dunque al sacerdozio e nel 1855 improvvisamente lui fa domanda di ammissione al seminario delle missioni estere di Parigi. Era un seminario che preparava i seminaristi alla missione e lui chiede di entrare in questo seminario per andare missionario in Cina. Venivano preparati proprio per andare in Cina. Siccome secondo me è sempre molto importante sapere di che parliamo, volevo mostrarvi la foto. eccolo qui. Questa è una foto di quando lui era già in Cina. Vedete che ha già il cappello. È una foto, non è un dipinto. Questo è lui con il cappello già tipico della Cina, poco prima di essere decapitato. Quindi è una foto che lo ritrae poco prima del martirio San Pietro Giovanninelle. Quindi entra in questo seminario e studia per diventare missionario. La mamma però gli si mette contro. Spesso succede che nel disegno di Dio i familiari si oppongano e diventano, senza a volte saperlo, strumento di Satana per impedire il disegno di Dio. La mamma non vuole che il figlio vada missionario. Accetta che diventi sacerdote, ma in una parrocchia in Francia, al sicuro. Quanto è attuale questo? Io non so, provo una grande ammirazione, mi sento schiacciato da testimonianze di figure come quella di San Giovanni Pietro Neel che invece vuole andare missionario in Cina sapendo ciò che rischia. Allora alle opposizioni della mamma il figlio risponde con coraggio dicendo che la sua missione è questa. Vi leggo il passaggio di una lettera. Mi ha fatto male sapere che sei tuttora inconsolabile. Povera mamma, quale follia ti ha dato alla testa? Ecco, bisogna essere chiari coi familiari. Ho conosciuto vocazioni che si liquefanno perché coi familiari la mamma rimane sola, il papà rimane solo, la sorella rimane sola e si perdono vocazioni maschili e femminili perché si rimane vittime dei capricci dei familiari. Ecco San Pietro Giovanni Neel, quale follia ti ha dato alla testa? Tu dunque hai troppa grande abbondanza, hai una propensione di amore da non poterlo contenere e fondilo sugli altri figli dice Giovanni Pietro Neel. Possibile che sia tanto penosa la separazione momentanea di un figlio che il Signore ha richiesto per sé? Sono lettere piene di forza, bisognerebbe che i seminaristi le leggessero. Io non so che cosa fanno leggere ai seminaristi, probabilmente gli scritti di Lutero. In un'altra lettera, e questi qui invece sono sconosciuti, santi cattolici della chiesa cattolica di Roma, Pio X, San Pio X aveva ammirazione per queste figure, chiese lui di avviare i processi di beatificazione di questi sacerdoti, 120, 120 sacerdoti francesi massacrati per l'annuncio del Vangelo in Cina. E quando Pio X consacrò un paio di vescovi per andare comunque a sostenerli, questi missionari, il giorno che li consacrò vescovi, poi li volle ricevere in udienza nel suo studio privato, e uno dei vescovi, rimasto vivo, alcuni morirono, racconta che Pio X, mentre parlava loro, cominciò a piangere. Questa è la santità. San Pio X pianse e disse loro, piango perché di invidio, alcuni di voi, fu profetico, moriranno martiri in Cina, e quanto vorrei essere io al vostro posto? Questi sono i santi, 120 martiri. Insomma, San Pietro Giovanni Neel fa di tutto per resistere e dice, guardate che bella una di queste espressioni, io devo andare a salvare le anime. Una sola di queste anime più preziosa e infinitamente più grande di tutto l'oro e di tutte le ricchezze della terra, perché tutte queste cose non sono costate a Dio che una parola, mentre quell'anima è costata le sofferenze e le ignominie della passione del suo diletto figlio fino all'effusione di tutto il suo sangue. Ma dove sono i preti che parlano più così? E San Giovanni Pietro Neel abbandona le sicurezze della terra di Francia e desidera andare ad annunciare il Vangelo in Asia, in particolar modo, come stiamo dicendo oggi, nella sconfinata Cina. Nell'aprile del 1858 riceve l'ordinazione sacerdotale, scrive alla mamma, prega mamma, perché Dio mi conceda di ben comprendere e perfettamente adempiere i numerosi e gravi doveri inerenti a questo santo ministero, almeno quanto è possibile la fragilità umana. Prega perché mi riempia con abbondanza di virtù apostoliche, perché possa ottenere quello zelo che trasporta. Che meraviglia, figlio e cari! Guardate lo Spirito Santo come forge i suoi santi, spesso sconosciuti. Oggi, 18 febbraio, San Giovanni Pietro Neel, sacerdote delle missioni estere di Parigi, che muore martire, che morirà martire, come ora vedremo in Cina. Prega mamma, perché io abbia quella carità che consuma e infiamma il cuore dell'Apostolo per la salvezza delle anime e la gloria del nome di Gesù. Pregalo, infine, perché benedica questo tuo figlio adesso e durante tutta la laboriosa esistenza che si apre davanti a lui. Il 29 agosto dello stesso anno, 1858, l'anno delle apparizioni della Madonna a Lourdes, dalla Francia, da Bordeaux, padre Jean-Pierre Neel si imbarca per la città cinese di Canton, dove giunge, pensate, dopo ben sette mesi dopo di navigazione. Con altri compagni missionari si erano preparati, avevano studiato la lingua del luogo, i costumi, le abitudini, raggiunge la regione del Koyui-Cheu, dopo molte soste e mille difficoltà derivanti dal momento drammatico che la Cina viveva di totale anarchia. A Koyoyang, capitale della provincia, San Giovanni Pietro Neel studia ancora di più gli usi cinesi. La sua dolcezza, era una persona molto dolce nel tratto, ma si vede anche dalla foto, si vede che è una figura dolce nel tratto, eccolo lì. Santa Teresina rimase affascinata da queste figure. La sua dolcezza riesce a conquistare i primi neofiti, lo ascoltano volentieri e cominciano le conversioni. Nel dicembre 1861 Monsignor Forì, vicario apostolico della regione, inviò il Neel a visitare una famiglia di Chia-Chalong che i catechisti avevano preparato al battesimo. Giunto nella città però, San Giovanni Pietro Neel, che è ancora un prete giovane, trova numerose altre famiglie pronte a convertirsi e un buon numero di donne desiderose di accostarsi al cattolicesimo. Basta convertire le donne e poi tutti gli altri vengono mariti e figli appresso. Diventano circa una cinquantina i convertiti in questo villaggio dell'entroterra cinese. E allora le autorità locali decidono di arrestare il francese missionario padre Giovanni Pietro Neel. Monsignor Forì, il vicario apostolico, attestò a tal proposito. Il generale Tien Taien aveva inviato una lettera segreta a tutti i mandarini della provincia e citandoli a massacrarci ovunque ci trovassero. Questo Gesù l'ha detto del Vangelo, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. La missione è ancora oggi fondamentale e non è sostituibile col dialogo. La missione prevede l'annuncio che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Verso la metà di febbraio del 1862, quindi a trent'anni. Immaginate voi San Pietro e Giovanni Neel sono i misteriosi disegni di Dio. Poteva avere dinanzi a sé una vita, pensiamo queste cose qui per noi anche, perché poi ci possiamo preparare anche noi all'agire misterioso di Dio. Poteva avere una vita apostolica, missionaria dinanzi a sé, feconda, aveva studiato bene il cinese, era dolce di tratto, conquistava il cuore dei cinesi, ma a trent'anni viene avviato al martirio. Domenica 16 febbraio San Giovanni Pietro Neel, a trent'anni, scrive al proprio vescovo dovevo mettermi in cammino domani per la capitale, ma ecco che il demonio viene a turbare la nostra situazione. Si tratta appunto della decisione di arrestarli e rastrellarli e non so se voi cogliete, o siamo matti noi o erano matti tutti i cattolici fino al modernismo. Vedete come San Pietro Giovanni Neel, che è santo, dice che è il demonio che sta agendo. San Paolo, quando non può spostarsi in Bacedonia, dice che il diavolo me lo ha impedito. Se oggi uno dice, poniamo, che è un'opera che il Signore vuole, non va avanti ed è colpa del demonio, il demonio che impedisce, ti fanno il TSO. Capite a quali livelli siamo arrivati. Due giorni dopo, quindi esattamente, è importante ricordare la data, il 18 febbraio, il giorno del martirio, ecco perché è festeggiato oggi San Giovanni Pietro Neel, il 18 febbraio del 1862, verso le 4 del pomeriggio, un centinaio di guardie nazionali mandarini, con i mandarini a cavallo, entrano nel villaggio dove vive il trentenne padre Giovanni Pietro Neel e circondano improvvisamente la casa del neofita Giovanni Zantian Shen, dove oltre al missionario alloggiavano anche il catechista, Martino Wu Xuescheng, catechista, e Giovanni Chen Xiangeng. Faccio questi nomi perché vengono uccisi con lui, uno di loro poteva aver salva la vita e invece dice io voglio andare in cielo con i miei fratelli martiri, come ora vedremo. Tutti e quattro vengono arrestati e ammanettati, l'abitazione viene abbandonata al sacchieggio e gli si dà fuoco e padre Giovanni Pietro Neel con i capelli legati alla coda di un cavallo, poi guardate veramente tante volte poi si arriva al gusto dell'orrido, veramente il cuore umano, l'uomo sa diventare belva, veramente guardate il peccato originale è qualcosa di tremendo, che cosa può essere in grado di fare l'uomo su un altro uomo. Viene attaccato con i capelli alla coda di un cavallo e trascinato con gli altri tre prigionieri, sino alla vicina città di Cai Ceu. Martino Vuxuescheng, vabbè viene fatta la storia degli altri tre che vi risparmio, veniamo al momento del martirio. Vengono condotti tutti e quattro a Cai Ceu e subito sottoposti a interrogatorio. Tra il capitano e il missionario francese, padre Giovanni Pietro Neel, che ha 30 anni ve lo ricordo, si svolge questo serrato confronto. Come ti chiami? Qui mi chiamano Wen, in francese il mio cognome è Neel. Mettiti in ginocchio come gli altri, non sono un cinese, sono venuto dalla Francia a predicare la religione all'ombra del trattato concluso tra i nostri due imperi, non mi inginoccherò perché sono un ospite e non un reo. Un soldato colpì allora violentemente il sacerdote alle spalle con una sedia, diede un colpo violento di sedia al povero martire Giovanni Pietro Neel che cade a terra, ma lui subito si risolleva e presenta il passaporto francese di cui era regolarmente munito. «Lo conosco, lo conosco», disse il capitano. «Questo passaporto ti è stato rilasciato dal tuo governo e non dal nostro. Del resto quello che mi importa è che rinunzi alla tua religione altrimenti sarai sottoposto a morte». Risposta del glorioso, eroico padre Giovanni Pietro Neel, il santo martire di cui oggi celebriamo la festa insieme ai suoi compagni. «Non ne parliamo neppure. Rinuncia alla tua religione e sarai salvo». E uno le legge queste cose dei primi martiri cristiani, ma leggerle del nostro tempo moderno, dell'epoca moderna. «Rinuncia alla tua religione». Chissà noi come avremmo fatto, ma lì c'è l'opera dello Spirito Santo. «Rinuncia alla tua religione», risposta del glorioso martire Pietro Giovanni Neel. «Non se ne parla neppure. Uccidetemi pure, se vi pare». «Tra poco sarai esaudito», rispose con sarcasmo il capitano. «E voi altri, imbecilli, rinunziate alla vostra religione». Erano i tre che lo accompagnavano. Ricordiamo i nomi. Martino Vuxuescheng, Giovanni Zantian Shen, Giovanni Chen Xianeng. Risposta. «Mai, mai», risposero insieme gli altri tre prigionieri laici. Il capitano redasse dunque questa laconica sentenza. «Ho scoperto una cospirazione prima che scoppiasse e ho punito a morte gli autori». I condannati vengono condotti al luogo dell'esecuzione, in preghiera, con le mani legate dietro la schiena, vengono anche spogliati nudi. I parenti di uno dei martiri, Giovanni Zantian Shen, gli si strinsero attorno per scongiurarlo di abbandonare la fede cristiana e aver salva la vita. Ed egli rispose loro «Il mio padre spirituale, cioè San Giovanni Pietro Neel, non teme la morte, io morirò con lui». Il carnefice, dopo che alla luce delle torce di bambù aveva decapitato il missionario, quindi il primo a morire è proprio San Giovanni Pietro Neel, che muore perdonando i suoi uccisori e dicendo «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» e i due castichisti all'ultimo, che doveva essere ucciso, vuole risparmiare la vita, nella speranza che le promesse di beni terreni fatte dagli amici lo inducessero a ritrattare, ma invece gli rispose «Io non desidero altro all'infuori dell'eredità eterna del cielo, voglio seguire i miei compagni». Che meraviglia, che pagine gloriose che la nostra fede cattolica ha e come è triste vedere a quale grado di miseria si è ridotto il cattolicesimo dierno. Subì anche così la sorte dei compagni, le loro teste furono poi sospesse in alto sui bastioni della città e i loro corpi finirono in pasto alle bestie feroci. La Chiesa però non ha dimenticato la testimonianza eroica di questo trentenne sacerdote, San Giovanni Pietro Neel, Martino Vuxuescheng, Giovanni Zantianschen e Giovanni Chenxianeng furono beatificati insieme al missionario francese da San Pio X, che era molto sensibile a queste storie qui, l'11 aprile 1909. Infine canonizzati, fatti santi, da Giovanni Paolo II il 1 ottobre 2000 insieme ad un gruppo complessivo di 120 martirigini. Eccolo qui il santo di cui parliamo oggi, il trentenne sacerdote martire Giovanni Pietro Neel, che chiediamo preghi per noi, oggi lo invochiamo e preghiamo ovviamente in questo giovedì dopo le ceneri per tutti i cattolici della Chiesa clandestina di Cina, che per me restano i veri cattolici. Bene miei cari, ho concluso per oggi, vi ricordo che oggi pomeriggio poi oltre la messa alle 18.45, essendo giovedì, c'è l'appuntamento con l'ora santa in ascolto di Gesù che ci parla. Adesso c'è spazio per le telefonate, almeno due, il numero telefonico lo trovate in sovrimpressione, lo ricordiamo 349-410-1638, potete chiamare per questo o per altre questioni. Nel frattempo ancora vi ricordo che è possibile richiedere il libro che io ho scritto gli amossino alla fine sulla passione di Gesù, abbiamo iniziato un ciclo di catechesi su questi racconti della passione di Gesù. Proprio ieri sera abbiamo iniziato la prima delle catechesi che riguardano la storia fra tutte più importante, la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Vedo che non arrivano telefonate, eccoci qui la prima.